benvenuti al mio canale sono frank mazzoni oggi qui per aiutarvi su una piccola cosa diciamo che mi sono aiutato me stesso perché è una cosa che serviva a me come inserire la chat trasparente sulle live di obs ovvero come avere diciamo la chat bella trasparente senza lo sfondo bianco su direttamente su schermo in modo da permettere a tutti voi che mi state seguendo magari su una live che passo da obs cliccate su tutto schermo e vi seguite anche la chat tranquillamente poi se dovete commentare trovate voi il modo comunque allora vi faccio vedere come si fa questa cosa allora obs questo è il programma che sapete serve per streamare potete streamare e inserire tutte le cose volete a schermo come vedete contatori i top donator le donazioni possiamo inserire un po' tutte queste cose che vogliamo una scritta che ti passa sotto la faccio vedere intanto questa è la classifica dell'inter su una playlist che stiamo facendo seguiamo il cammino dell'inter bene andiamo a vedere come inserire quella chat che vi ho detto è semplicissimo pochi passi e poco tempo lo fate subito quindi browser servers si aggiunge col più browser server poi si fa su ok andiamo ad inserire qui la chat la chat la dobbiamo prendere in questo caso io quando preparo un evento tipo oggi è un evento in programma abbiamo l'evento del fifa 17 scommetti sul goleador c'è scritto il giocatore ma dovremo modificare comunque apriamo questa play lì questa questo evento creato vedete qui c'è già una chata no dove stavo facendo delle prove andiamo su tre pallini e poi aprite la nuova chat ok a questo punto potete già chiudere anche questa immagine prendete questo qui fate copia e ci otteniamo qui per sicurezza per far vedere la differenza ok l'abbiamo copiato ora inseriamo il link copiato sopra l'url paste ok e abbiamo la nostra chat eccola qui ora ci abbiamo già la chat noi potremo già utilizzarla in questo modo tranquillamente vedi tutto bianco però è fastidioso vedere tutto il bianco qui magari che ti ho copre il gioco non è una cosa molto bella da vedere quindi per trasformarla in trasparente ovvero sfondo tutto nero che prenderà lo sfondo del di quello che c'è dietro in questo caso prenderà il grigio questi colori che abbiamo dietro andiamo a fare in questo modo andiamo sempre su browser server proprietà arrivati su proprietà dobbiamo avere questo percorso file tutte queste scritte qua che ve le metterò in descrizione ok con questo percorso fate sempre copia tornate su obs dove c'è il css cancellate tutto incollate il nuovo link che vi passo io nella descrizione poi fate ok per magia la chat sparirà ecco fatto ora abbiamo tutto sfondo però ancora non è che si veda così bene perché va lavorata un po andremo su sempre più proprietà ok lo porteremo magari qui a 400 vediamo come viene 400 ok vedete la chat inizia a prendere un po più forma adesso ora abbiamo una chat un po di più poco larga ancora direi un pochino più larga allora sempre da browser server proprietà portiamola a 450 450 e sotto proviamo allungarla a 650 vediamo come viene fuori 450 e 650 ancora più lunga serve ragazzi comunque devo vedere che ancora più lunga questo potrei gestiremo si vedete c'è una linea di troppo la posso eliminare così oppure tengo premuto alt su questa linea e faccio così cancello vedi cancello tutto un pezzo che voglio questo caso ad cancelliamo fino ok ora abbiamo questa chat che messa qui dovremo ancora un po allungarla perché io voglio che da qua da qui parte la chat magari tutti i messaggi arrivano fino qui o anche da qua su chi se ne frega magari da su c'è roba importante facciamo di qui dai ok allunghiamola ancora un po di più per allungarla di più sempre su proprietà portiamola a 700 gli fps non servono a niente ragazzi in questo caso 700 ok 700 è quasi qua sì qui direi che ci siamo più o meno questo punto qui è perfetto ok in questo modo noi ora abbiamo la nostra chat tutto quello che voi scriverete in chat ad esempio frank mi saluti una cosa che non mi scrivono mai batterete e succederà che io andrò a leggere direttamente frank mi saluti invece di andare sempre a guardarmi la mia chat di lato così mi tornava malissimo questo caso entrerete direttamente in campo con me e potrete scrivere direttamente sarà più facile anche per tutti è più bello anche per voi che potrete vedervi tutto a tutto schermo la live senza starvi a tenere uno schermo piccolino per vedervi anche la chat invece in questo modo potrete avere tutto schermo e guardarvi la chat liberamente poi per mandare un messaggio o riducete un attimo oppure dal telefonino mandate un messaggio come volete voi ok così siamo tutti sott'occhio e non ci scappa nulla la proveremo oggi su fifa 18 questa questo tipo di chat dove faremo le scommesse su scommetti il goleador sapete tutti cos'è se non lo sapete andate a vedervi la playlist e ci vediamo oggi puntuali oggi alle 14 30 vabbè ragazzi chiudo questo piccolo video era una spiegazione che mi serviva a me l'ho fatto per me per stamani ho voluto condividere con tutti voi se avevate dei problemi dato che ho cercato dei video ma solo inglesi spiegavano bene questa cosa quindi ora l'ho rifatto alla italiana quindi se qualsiasi problema scrivete nei commenti e verrete aiutati da frank mazzone tutto passo e chiudo sì scusate c'è un problemino che io ma lontano sempre di là ma è qui che devo bloccare noi te sto là come un cretino non posso bloccare il video ancora alla prossima passo e chiudo e psh ciao 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 ciao